Buongiorno, oggi siamo in compagnia di Dario Romano, cavogruppo in Consiglio Comunale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno Dario. Abbiamo oggi l'occasione per fare un po' il punto della situazione, c'è tanta carne al fuoco, il Partito Democratico è impegnato su vari fronti per il Congresso, a livello locale siete impegnati, siete reduci dall'approvazione del bilancio in Consiglio Comunale, insomma, iniziamo un po' dagli affari di casa nostra. Parliamo proprio del bilancio che è stato approvato in Consiglio Comunale due giorni fa. Che manovra è per voi, vi soddisfa, cosa avreste voluto? Grazie Giulia, sì, la manovra evidentemente non ci può soddisfare perché in questi tempi con grandi risorse ci aspettavamo di vedere uno slancio da parte dell'amministrazione comunale, uno slancio in particolar modo sul tema delle tasse perché viste le ingenti risorse che arriveranno dal PNRR, dall'Europa e quindi milioni di euro che si sbloccano per investimenti, altrettante risorse in partite diverse potevano essere utilizzate per andare incontro ai cittadini. Pensiamo all'aumento della no tax area, quindi venire incontro alle famiglie, ai cittadini meno abbienti, pensiamo all'addizionale comunale IRPEF, pensiamo anche all'abbassamento delle tariffe per gli impianti sportivi, alla Tari e a tutto ciò che è stato effettivamente alzato in questi due anni e mezzo. C'è stato anche un po' di bagarre in aula, soprattutto nella fase finale, su alcuni emendamenti, alcune risoluzioni tra maggioranza e opposizione, è stato un consiglio comunale sentito? Ovviamente il bilancio è il momento più importante per una comunità come quella di Senigallia, e allora noi abbiamo posto in discussione alcune tematiche legate all'alluvione, in special modo per ciò che riguarda alcuni lavori pubblici, per esempio la manutenzione del ponte Travallone e Cannella. È chiaro che su alcuni temi non si può essere perfettamente d'accordo, ma io non la chiamerei più una divisione, la chiamerei più una pressione a organi competenti e questa cosa ovviamente il sindaco e l'amministrazione intera capisce che è di rimente e su questo è chiaro che può nascere una sorta di discussione, ma diciamo che è più di pungolo che non altro, quindi abbiamo votato tanti provvedimenti all'unanimità negli scorsi consigli comunali sull'alluvione, questa volta non è avvenuto, ma diciamo che fa parte della normale schermaglia politica. Anche perché sul post-alluvione, sul tema della messa in sicurezza del fiume, sul tema della ricostruzione delle infrastrutture, serve davvero una compattezza per poter far sentire la propria voce sia a livello regionale che nazionale? Siamo totalmente d'accordo, io quello che dico in questi due anni, prima dell'alluvione soprattutto, quando sollevavamo alcuni temi, faccio un esempio su tutti, il prolungamento del molo di Levante, che era un intervento che non era inserito nell'assetto di progetto, da parte dell'amministrazione comunale abbiamo sempre ricevuto silenzio e quindi su questo che noi battiamo ovviamente molto il punto, quindi ci sia una grande attenzione, si rispetti l'assetto di progetto, gli interventi sappiamo quali sono, le risorse forse sembra che ci siano, da quello che viene detto, lavoriamo per fare in modo che il MISA sia il più sicuro possibile per i cittadini senigallesi e mi permetto di dire di tutta la vallata. Una delle battaglie che state portando avanti come Partito Democratico, ma anche come minoranza consigliare, è quella del tema dei T-RED, delle multe e ultimamente anche quello dei parcheggi gratuiti che non lo sono più per le auto ibride. Sul tema dei T-RED siamo intervenuti diverse volte, intanto la premessa è che noi siamo ovviamente a favore della legalità, quindi chi passa col rosso è evidente che debba essere multato, diversa è però la sfumatura del codice della strada e dell'interpretazione della norma che purtroppo va a penalizzare tutti quegli automobilisti che passano anche col giallo e con diversi tipi di modalità. Quindi su questo abbiamo proposto una mozione per inserire dei contasecondi proprio per ovviare questo problema, speriamo che l'amministrazione la recepisca. Sui parcheggi e sul tema delle auto ibride invece c'è un grave errore a mio avviso dell'amministrazione comunale sotto due punti di vista, intanto i permessi sono stati accordati a fine dicembre 2022 per l'anno 2023, dopo meno di un mese questa giravolta per evidenti motivi di cassa e soprattutto una giravolta che da un lato porta risorse sì per il comune, ma dall'altro dà anche un segnale negativo e terribile per quanto riguarda l'ambiente, va nella direzione esattamente opposta rispetto a quello che il mondo sta recependo e proponendo in tema di cambiamento climatico. Parliamo adesso di Partito Democratico perché, lo dicevamo prima, ci sono degli appuntamenti importanti. C'è il Congresso Nazionale che coincide per le Marche anche con il Congresso Regionale. Ti chiedo prima a livello nazionale, sappiamo qual è la tua posizione, però insomma, che previsioni fai e come vi state preparando ad arrivare a questo appuntamento? A livello nazionale, Giulia, sosterremo convintamente Elie Schlein. Elie Schlein, a nostro avviso, può essere la carta che rilancerà il Partito Democratico, ma non solo nella sua persona, rispetto a ciò che propone, perché il suo programma parte da una parola chiave che è diseguaglianze. Noi dobbiamo avere quel punto di vista per poter mettere in campo tutte le politiche che servono, quindi diseguaglianze economiche, parliamo di reddito, parliamo di stipendio, parliamo di lavoratori, diseguaglianze sociali, quindi un'attenzione alla sanità pubblica che negli ultimi anni troppo è stata maltrattata, diseguaglianze sui diritti civili perché anche quello sono indice di un Paese sano, che vuole andare avanti, progressista e che sa cosa vuol dire ricepire le istanze di tutti. Quindi il pieno sostegno a Elie Schlein per trovare un nuovo Partito Democratico che sappia rilanciarsi. A livello regionale tra le candidature c'è Chantal Bonprezzi che tra l'altro è senigallese, consigliera comunale, ex assessore, quindi insomma avete anche una candidatura in casa. Può essere solo un elemento di vantaggio, di orgoglio per tutta la comunità senigallese avere Chantal Bonprezzi come candidata, ovviamente tutto il gruppo consigliare è con lei, l'abbiamo sostenuta e la sosterremo fortemente, anche la comunità senigallese di Vallata è praticamente tutta con lei. Chi ovviamente non si è schierato con lei e ha scelto l'altra candidata Bello Maria è assolutamente legittimato a farlo, però è bene che chi sia di Senigallia, se non altro per un discorso di rispetto e di sostegno a un iscritto del nostro partito, sia convintamente con Chantal. Perché anche a quel livello lì, regionale, abbiamo bisogno di una figura e di una generazione nuova che sappia rilanciare il partito dopo ai miei le sconfitte regionali e mi permetto di dire comunali. Il momento delle primarie possono essere un momento di confronto, ma sicuramente, e lo sono anche storicamente, è anche un momento di divisione, perché è naturale che ci siano anche la stessa Bonprezzi, sostiene Bonaccini, quindi ci sono comunque delle differenze. Pensi che una volta concluso il congresso, con i giochi fatti, sia possibile ritrovare un'unitarietà oppure qualche frizione resterà? Perché poi è questo un po' il problema, anche a livello nazionale, se il Partito Democratico vuole risalire la china, deve ricompattarsi. Hai assolutamente ragione Giulia, non vedo problemi sulle candidature né nazionali né regionali, i problemi potrebbero nascere, questa è una tematica endemica del nostro partito, da chi sostiene le varie persone, le varie candidature, perché vedi, i personalismi degli anni purtroppo ci hanno portato a essere un partito che guarda più alle persone, i ruoli che devono ricoprire, piuttosto alle idee e ai valori che ci contraddistinguono. Bene, le candidature che sono in campo a mio avviso sono tutte rispettabili e possono permettere di far girare pagina. Bisogna capire se chi sta dietro per una volta decide di stare effettivamente un passo indietro e permettere che ci sia questo rinnovamento e questa inclusione di cui tu parli e che permetta di fare sintesi, perché l'avversario non è interno, l'avversario è la destra. Vediamo allora cosa succederà a livello nazionale e poi buon lavoro a livello comunale. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie.